Chi ama non ha paura. Alla vigilia dell'anniversario dell'attentato che il 19 maggio dell'anno scorso uccise la sedicenne Melissa Bassi e ferì altre nove persone davanti all'Istituto Morvillo Falcone di Brindisi, il messaggio è ancora quello di non avere paura. A ricordarlo è stato il vicario dell'Arcidiocesi di Brindisi Ostuni, Don Giuseppe Satriano, durante l'Omelia della Messa che ha celebrato questa mattina per i numerosi studenti presso la Chiesa dello Spirito Santo a Rione Sant'Angelo, a pochi passi dall'Istituto Professionale in cui si verificò la strage. Il cuore diventa di pietra e quando diventa di pietra uccide è cattivo prigioniero. Chi ama però non ha paura. Dio quel giorno, ha detto Don Giuseppe, era con Melissa, con Selena, con chi soffriva. Dobbiamo mordere la vita, amarla e viverla intensamente. E intanto, ad un anno dall'esplosione, il procuratore capo della DDA di Lecce, Cataldo Motta, ha chiesto l'ergastolo per l'autore reo confesso della strage, Giovanni Vantaggiato. L'imputato è chiamato a rispondere delle accuse di strage aggravata dalla finalità terroristica e costruzione e possesso di ordini omicidiale in merito all'attentato di Brindisi e di tentato omicidio pluriaggravato per quanto riguarda il posizionamento della bicicletta con dell'esplosivo nel condominio in cui abita l'imprenditore Cosimo Parato a Torre Santa Susanna. Il procuratore Motta ha sottolineato che debba essere riconosciuta l'aggravante della finalità terroristica, ha chiesto per questo il massimo della pena e l'isolamento per tre anni.